Si sono avvalsi di una serie di prestanome per intestare 11 attività commerciali che non avrebbero potuto gestire per via di precedenti provvedimenti giudiziari. E' questa l'accusa per la quale la Procura di Salerno, guidata da Giuseppe Borrelli, ha chiesti ottenuto dal GIP del Tribunale gli arresti domiciliari per Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo e Carmine del Regno. I quattro, con il supporto dei commercialisti Antonio Libretti, anche lui ai domiciliari e Donato Pasqualucci colpito dal divieto di dimora in campagna e dalla misura interdittiva della sospensione dell'esercizio della professione di commercialista per un anno, avrebbero intestato fittiziamente, a soggetti terzi compiacenti, attività commerciali operanti nei settori della ristorazione dei bar e dei supermercati. Ad eseguire i provvedimenti questa mattina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, che hanno apposto i sigilli a note attività di ristorazione che restano aperte ed affidate ad amministrazione controllata. L'elenco comprende i ristoranti Non Ti Pago, Porca Bacca, gli Impastati, il Bar 089, la Meda Carne, già in liquidazione. Nell'inchiesta, con il ruolo di prestanome, l'ex moglie di Carmine del Regno, Maria Rosaria D'Auria, la figlia Elisabetta ed anche il giornalista Vincenzo Casciello. A tutti gli indagati sono contestati reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, favoreggiamento personale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, truffa ai danni dello Stato, violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal codice antimafia.